no 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 basta che non mi centri a me lì abbiamo capito che non tiene niente il dietro è un pezzo di ghiaccio quindi no ma fai la zona anche tu dai ok vai su e poi scendi da quella là e giri fuori impari cioè l'hai fatto meglio io mi son capottato te il tronco l'hai fatto che cacchio vuoi quello alto che c'è lì ho coppato sopra mi si è alzato e mi son girato indietro si ma son rotolato fino indietro le altre moto no lui la tira su lui praticamente fa il tronco coppa appoggia la coppa poi prende la moto come come l'amping la tira su di braccia la porta avanti e esce e te sei ciulato senza frizione ti sei filmato che sei caduto e si anche il vito mi sa che mi filmava sto bastardo tanto non me la ricordo vai Stefano non me la ricordo entrata tronco discesa vai eeeh eeeh e largarla ah e poi la chiudi prima dell'albero minchia cazzo c'è sotto un ceppo bastardo c'è sotto un ceppo qua c'è sotto un ceppetto lì che me l'ha alzata pensavo di allargarla invece mi ha fregato no 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 lasciala lascia perché te frega in mezzo ok no no va bene va bene va bene ma beccato un ceppetto sotto all'erba che non avevo visto per allargare l'ha maciulato via e ti chiude dopo ma va bene